Bella a tutti, bella a tutti bro, willas, gherini Allora, dopo aver caricato appunto il video di Dark Souls Oggi voglio fare un secondo video Perché come vi ho detto Ok, scusatemi Che come vi ho detto potrò caricare Uno, due, al massimo, massimo, massimo Tre video al giorno Quindi come potete vedere sono nel mio server dedicato Direte cos'è quello, cosa serve nel server Praticamente, niente, è una cosa che ho aggiunta io Però non mi ricordavo il coso della protezione Non mi andavo a dimetterlo Ho messo la bedrock So che è brutta da vedere Quindi al più presto metteremo le protezioni Però visto che si leveranno appena aprirò il dedicato Lo faccio subito nel momento del dedicato Tutto insieme faremo Allora, mi sta laggando a morte Quindi per questo io dico Ve lo faccio un attimo vedere Uno, due e tre Vabbè, e là ci entreranno insieme perché è un bug Comunque Questo episodio oggi è per continuare la serie dei plug-in Visto che ora non ho niente da fare Volevo fare l'arena ma Tiger, ne Fire e ne Figo ci sono Volevo fare l'arena ma Non mi andava da solo E quindi ho deciso di continuare la serie plug-in Oggi volevo fare Supplising Supplising, come cazzo si dice? Vabbè Supplising, non so il genere Comunque visto che è sabato caricherò questo secondo video giornaliero E iniziamo subito Allora Supplising si fa appunto con i cartelli Ora vi faccio vedere diversi tipi Per esempio metto Suppli Tra le parentesi quadre Poi scrivo kit Tools L'ho creato io nel Nella configurazione Don Ok, ecco il nostro kit Stiamo un attimo laggando Sì, perfetto Out of memory Le secondi ragazzi Ok, eccoci, scusatemi Era un po' drag Comunque Una volta fatto Clicciamoci con il destro Ed ecco il mio kit Tools L'ho creato io con Sarà il kit iniziale C'è Spada in pietra Pala in pietra Piccone in pietra Ascia in pietra E poi ho messo le mele E Tutti potranno scegliersela come si pare E poi vi farò come si configura E farò vedere Ci sono diversi kit Poi un altro metodo per utilizzarlo È il disp Con il dispenser Dietro noi andremo A mettere Con un cartello Ho scritto Suppli Sempre Tre le parenti 5 a 3 Poi sempre scrivo Apple 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 Della Apple Si scrive così No sbaglio, no? Ho sbagliato Signor Apple No, l'ho scritto bene Vabbè, scriviamo un codice 262 Poi mettiamo un bottoncino Tipo Tipo Dai cazzo Dov'è il bottoncino Eccolo Spara frecce жизe perfetto per utilizzarlo come mitragliatore di frecce ora ve lo faccio vedere vi faccio pure rivedere il tutorial del mitragliatore di frecce così velocemente mettiamole un'altra double l'altra cazzo 262 262 perfetto allora mi brude una gamba mi serve della redstone oh oh yes cozzopino cozzopino comunque ragazzi non so perchè ma il quello che hanno fatto la redstone nella 1.6.2 mi ha fatto proprio cagare non c'è una merda a fare queste i movimenti ecco vado a fare una cosa grande ecco 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 il mio il mio voi per esempio scrivete che ne so schietino due punti e porca troia ok mettiamo mettiamo uno che non saprei cos'è ah è l'aria no non è l'aria vabbè mettiamo 7 la bedrock c'è bedrock infinita quindi su placing dust c'è la tonino no yes riapriamo tutto quanto multiplayer oddio tonino schietino ora non la posso aprire perchè c'è la bedrock che non potrò che non potrò sto che non potrà prenderla quindi ve ne faccio vedere un altro sempre però alcuni già c'è wood c'è io l'ho modificato piccolo wood ok wood quando ho fatto queste cazzate guardiamo un po' l'entrata nel mio server e basta dire cazzate e toglierò questa questo questo scivo scivo si 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 ok bene ragazzi per questo video ho finito anche se era abbastanza corto vabbè abbastanza corto 8 minuti e quindi ci vediamo al prossimo video che credo sarà di league of legends se non mi lagga ci vediamo ciao a tutti ragazzi ciao